guardate qua che ficata oh no oh no allora oggi storytelling parliamo di quella volta in cui questa ragazza ignorava le mie chiamate e i miei messaggi allora perchè questa storia è così interessante perchè c'è una lezione molto importante che andremo a a scoprire oggi ok è qualcosa di cui ho già parlato mica sono bianchissimo perchè sono così bianco la lezione è molto importante che personalmente ha cambiato molto la mia prospettiva il mio modo di agire ne ho già parlato in passato ma forse questa storia non sono mai entrata abbastanza nel dettaglio e comunque sicuramente vi farà bene ascoltarla se volete migliorare i vostri risultati con le ragazze allora la storia parte un po' di anni fa dove voi iniziate a sentirmi con questa ragazza e stava diventando anche abbastanza una cosa seria non dico non era ancora una relazione al cento per cento però ci stavamo frequentando stava andando molto bene fino a quando appunto io sono partito con amici sono andato a farmi dei giri e praticamente era una specie di vacanza diciamo mettiamola così e a un certo punto dovevamo dovevamo sentirci io ero a fare la mia serata lei era a fare la sua serata a un certo punto appunto inizio a messaggiarla c'era stata una mezza discussione adesso non lo ricordo di preciso era un bel po' di anni fa però c'è stata una discussione io inizio a scriverle e le scrivo faccio esempio alle 10 di sera la risposta arriva alle 10.40 ovviamente cosa faccio io? rispondo alle 10.41 per farle aspettare quei ben 60 secondi rispondo alle 10.41 lei mi risponde dopo un'altra ora ok? inizio a chiamarla inizio a cercarla e ovviamente tutte le mie chiamate venivano ignorate mi diceva magari non posso rispondere in questo momento sono in giro cazzate varie ok? fino a quando a un certo punto è arrivata una persona a me cara una mia amica tra l'altro quindi un'altra donna mi ha detto mi ha detto fai una cosa ignorala completamente e lì io ho detto vabbè tanto sono qua che sto facendo sono lì che cerco di scrivere cerco di chiamarla e tutto qua può sembrare una storia del cazzo ok? ma vi farò vi spiegherò poi dopo il perché di questa cosa ho detto vabbè possiamo ignorarla basta lei a un certo punto mi riscrive e io non rispondo più visualizzo e non rispondo a un certo punto mi rimanda un altro messaggio io continuo a visualizzare e non rispondere ok? fino a quando non inizio a ricevere chiamate io a quel punto ero con questa nemica ha detto rispondo e inizio a dire no non rispondere che è il quale cosa che tra l'altro ad oggi si direi a chiunque a chiunque altro lo faccio lo faccio perché fa parte di me però ai tempi ero ancora un po' uno sfigatello mi faccio ancora mettere un po' i piedi in testa diciamo soprattutto dalle ragazze quindi certe cose non le capivo e quindi ho detto vabbè lo ignoro mi ha dato questo consiglio sta andando bene continuo continuo a ignorare chiamate messaggi e tutti fino a un certo punto quando è arrivato il messaggio del tipo eh fatti pure la tua serata chissà con quante ragazze sei qua lassù e giù e a quel punto appunto ho iniziato a rispondere ok ma perché è successa questa cosa perché semplicemente ho cambiato la dinamica ok ho cambiato la dinamica di come stava andando quella relazione l'ho fatto temporaneamente ok perché poi non è stata una relazione duratura però questa lezione questa cosa che è successa mi ha spiegato quant'è importante che voi vi distacchiate voi distacchiate da questa ragazza che voi smettiate di pensare che dovete dare sempre di più dovete cercare sempre di più non appena è successo che io mi sono staccato che non è qualcosa che ho fatto di mia spontanea volontà non l'ho fatto di mia sponte semplicemente è arrivata questa mia amica ha detto fai questa cosa e ho visto questa cosa mi ha portato dei risultati ok le ho capito veramente una componente fondamentale della natura delle donne ok il fatto che le donne vogliono essere loro a seguire voi il fatto che voi siate sempre lì a inseguire delle ragazze è ciò che non vi porta i risultati che volete è ciò che vi impedisce di avere i risultati che volete quindi questo era un episodio ma ve ne potrei raccontare decine di episodi questo tipo però questa è stata la prima volta in cui io sono mi sono veramente esposto a questa dinamica ho capito questa cosa dove ero lì che io quasi volevo rispondere alle chiamate e questa mia amica ha detto no non rispondere adesso ti ha fatto aspettare tutto questo tempo perché tu devi premiare ora non mi ha detto queste cose qua questa mia amica però la realtà è questa ciò che ho capito ad oggi perché io devo premiarti se fino adesso mi hai ignorato completamente ok e quando voi iniziate ad avere questo questo atteggiamento quando voi iniziate a mettere in pratica questa cosa con le ragazze vedrete quanto cambia la dinamica delle vostre relazioni quando voi iniziate ad avere il controllo quanto siete voi a dettare la relazione ed è ciò che tanti uomini non riescono a fare quindi è successo poi in futuro appunto con un'altra ragazza proprio per raccontare gli eventi un pochino più importanti appunto questa ragazza qua semplicemente mi aveva mancato di rispetto e io oramai sono a un punto in cui non mi faccio prendere per il culo come ho detto per me è stata una crescita esponenziale negli anni con le ragazze dove partiva dove non riusciva a fare veramente arrivare al bacio con una ragazza ok parto da quella base lì e poi c'è stata una crescita esponenziale fino a quando appunto questa ragazza è arrivata al punto in cui io non accetto di farmi prendere per il culo se ci sentiamo se ci stiamo frequentando anche abbastanza seriamente quindi questa ragazza mi ha mancato rispetto e io decido di sparire completamente e fino a quando quel punto questa ragazza aveva completamente il controllo non aveva completamente il controllo della situazione però sicuramente ero più io interessato a lei rispetto a lei interessata a me da quel momento quando io sono sparito completamente la relazione la dinamica della relazione si è ribaltata completamente ok ma questo perché? perché le donne sono attratte dai uomini che hanno la capacità di dire io ti lascio ok a me non servi non ho bisogno di te infatti uno dei video più importanti che io ho fatto e vi consiglio di andare a vedere se non l'aveste già visto è l'unica arma che puoi usare con le ragazze appunto parlo di quanto sia importante utilizzare bene la vostra attenzione perché vi ho raccontato questa storia? perché voi dovete imparare a capire quanto è importante la vostra attenzione quanto è importante che voi diate l'attenzione a chi se lo merita se una ragazza vi manca di rispetto se una ragazza non ha tutto questo desiderio di stare con voi quanto voi avete il desiderio di stare con lei perché dovete premiarla dandole sempre più attenzione? no fatele sentire questa assenza io parlavo l'altro giorno con una un po' di mesi fa con una donna una donna adulta che appunto le ho parlato di questa cosa qua il nome calato a questa cosa è il trattamento del silenzio ha detto giustamente cazzo io preferirei prendere un pugno in faccia ha messo molto surrido però ha detto preferirei prendere un pugno in faccia rispetto al subire il trattamento del silenzio perché? perché appunto le donne impazziscono quando voi togliete la vostra attenzione e io non sto dicendo che ho dovuto utilizzarla in maniera manipolatoria perché io l'ho usata in passato per tante volte ok? in maniera proprio manipolatoria e non sto dicendo che sono orgoglioso di questa cosa ok? l'ho fatto e continuerò a farlo in certe occasioni va bene? non me ne fai un cazzo continuerò a farlo ma quello che vi sto dicendo è questo è che non deve essere una manipolazione deve essere qualcosa che voi fate per migliorare la qualità della vostra relazione ok? perché se voi continuate a dare anche quando questa ragazza non se lo merita caricata la videocamera quindi lo faremo da cellulare però mi sembra un video importante da finire ok? non voglio buttare via quei minuti quindi ciò che vi sto dicendo è dovete imparare a usare la vostra attenzione dovete imparare a usare quanta energia dedicata a una ragazza e se questo vostro investimento non viene ricambiato perché dovete continuare a dare di più ok? perché dovete continuare a premiare una ragazza se vi sta mancando di rispetto va bene? questo come ho detto ho raccontato il primo episodio perché lì è il momento in cui mi si sono aperti gli occhi ho detto guarda la mia reazione quale sarebbe stata quella di continuare a scrivere farle capire che se rispondevi in un minuto è perché ci tengo bisogno che le rispondi e soprattutto che si comporti nella stessa maniera in cui mi sto comportando io invece capendo questa cosa togliendomi mi stacco un po' mi levo un po' dalle palle mi faccio un po' desiderare io è cambiata completamente la dinamica e ritengo che in una dinamica di questo tipo bisogna arrivare a un equilibrio però se l'equilibrio in quel momento non c'è dovete completamente ribaltare la situazione per questo che tante persone parlano del no contact quando magari finisce una relazione perché il no contact è così importante perché io vedo un sacco di persone dove finisce una relazione e cosa fanno cercano la loro ex magari la loro ex le ha lasciati cercano la loro ex porca miseria cercano la loro ex vogliono farti tutto affinché la loro ex torni e vogliono per sempre stare con loro la pregano ok cosa che ho fatto anch'io in passato la cazzata che ho fatto anch'io quando in realtà la cosa migliore sarebbe basta dai spazio a quella persona fagli sentire la tua mancanza ok fagli sentire la tua mancanza fagli sentire la tua mancanza o a un ragazzo fagli sentire la tua mancanza perché a quel punto sentirà la tua mancanza e potrà decidere sentirà magari quel bisogno di tornare da te ma se tu sei sempre lì a cercarlo o a cercarla costantemente non la sentirà mai questa mancanza di conseguenza non vorrà tornare da te va bene anzi tanto sa che in qualsiasi momento basta che faccia così e tu tornerai e questo non è non ti porta a ciò che vuoi ok non ti porta a ciò che desideri di conseguenza la maggior parte dei uomini io credo che abbiano questo problema ovvero il fatto che diano costantemente attenzione ma si vede anche semplicemente a una prima uscita che fate molto di più di ciò che è necessario che fate vi preoccupate non solo anche a livello pratico che fate di più di necessario ma anche a livello mentale sbrecate tutta questa energia vi preoccupate così tanto quando in realtà se semplicemente iniziaste un po' veramente a dire le darò attenzione mano a mano che se lo merita ok più si comporta meglio con me più mi comporto meglio con lei allora a quel punto si torna a un'espressione di equilibrio ok e come ho detto invece io vedo un sacco di uomini che magari finiscono in discussioni inutili con la loro ragazza perché perché la ragazza li butta in queste discussioni e loro continuano a dare attenzione ok e l'attenzione può essere semplicemente continuare in questa discussione quando la cosa è toglietevi toglietevi da quella situazione sparite un attimo può essere per 30 minuti per 10 minuti per un giorno intero ok fate sentire la vostra assenza la vostra mancanza e come ho detto questa per me è stata una lezione molto importante che ai tempi ho capito ma non ho capito fino a fondo di conseguenza cosa vi consiglio a questo riascoltate magari queste due storie che vi ho raccontato perché la seconda storia che ho raccontato appunto mi aveva mancato di rispetto questa ragazza io di conseguenza sono sparito completamente per quasi una giornata intera ok e questa ragazza ad un certo punto ha iniziato a fare di tutto pur di stare con me ok ha iniziato a fare letteralmente di tutto ha iniziato riempimi di chiamate di messaggi dimmi che voleva vedermi addirittura a venire sotto casa e alla fine appunto mi ha pregato in qualsiasi maniera perché stessimo assieme tutta la notte ok perché appunto dormisse da me e cose varie quindi per farmi capire perché è successa questa cosa perché a un certo punto ho avuto la capacità di dire basta frena un cazzo ok mi sono rotto i coglioni e non mi faccio prendere per il culo e se voi imparate a sviluppare questa abilità che la maggior parte di voi come ho detto non ne ha perché la maggior parte di uomini ho bisogno di questa ragazza ho bisogno che lei sia accanto a me se voi imparate per questo ho fatto un video che è andato così bene un po' di tempo fa che è appunto il fatto che dovete lasciarla andare questa ragazza perché quando avete la capacità di lasciarla andare lei vorrà stare con voi ok quindi ragazzi io vi ho conto tante belle cose se volete lavorare con me è tutto in descrizione scusate il cambio di setup il cambio di qualità video ma la videocamera come ho detto si è scaricata c'è anche meno luce adesso quindi posso fare tipo questa cosa qua con il cellulare così va bene e nulla se volete lavorare con me è tutto in descrizione per piacere comprate i miei prodotti digitali lasciatemi i vostri soldi mi servono i vostri soldi ne ho bisogno ne ho bisogno ne ho bisogno devo vivere devo vivere no scherza a parte delle cazzate se volete comprare qualcosa è tutto in descrizione iscrivete mettete mi piace questo ho già detto e mi raccomando passate una cazzo di grandiosa giornata va bene ciao campioni a presto